In Italia tendiamo ad avere una visione della Cina che è datata, perché ci ricordiamo, pensiamo alla Cina come la fabbrica del mondo, che è una cosa che poteva essere valida 15-20 anni fa. Negli ultimi 15 anni la Cina è diventata la seconda potenza mondiale e soprattutto è diventata un paese che è passato dalla produzione di quantità, e quindi i famosi fake, le magliette made in China, tutte quelle cose che noi ci ricordiamo, alla produzione di qualità, che significa soprattutto tecnologia. Nei confronti della Cina esistono tantissimi stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi, fondamentalmente perché noi non conosciamo la Cina, cioè la Cina rimane una cosa lontana, strana, diversa soprattutto, quindi è una cosa che a noi spaventa moltissimo. Un po' diciamo che anche la narrazione della Cina che si fa sui media occidentali, è sempre un pochino a senso unico, si tende sempre a raccontare solo gli aspetti negativi della Cina, quando la Cina essendo un continente, avendo un miliardo e mezzo di persone, in realtà tante cose, è una complessità molto molto difficile da anche da indagare e da scavare, quindi secondo me l'unico modo per poter in qualche modo superare i luoghi comuni è iniziare a conoscerla, iniziare a studiarla, iniziare a cercare di capire perché i cinesi si comportano in un certo modo. La cosa che mi colpiva tantissimo quando io vivevo in Cina è che tornavo qui e trovavo un paese fermo, i miei coetanei che non avevano uno slancio verso il futuro, mentre là si sentiva proprio un'energia di gente che pensava adesso tocca a noi, adesso tocca a noi, è arrivato il nostro turno e le Olimpiadi per me sono state il primo biglietto da visita che la Cina ha mostrato di questo suo essere la nuova Cina lanciata come un razzo per diventare appunto la seconda potenza mondiale che oggi è diventata. La Cina è l'altro per antonomasia, io dico sempre che noi con i cinesi non abbiamo niente in comune tranne il fatto che sia a noi che a loro piace mangiare bene e in compagnia, per il resto siamo totalmente opposti. Studiare la cultura cinese, capire come pensano i cinesi è una cosa che può essere molto utile anche per noi, per capire come siamo fatti noi, perché i modelli, cioè la forma mentis, i modelli di pensiero sono totalmente opposti. Faccio un esempio molto banale, la strategia, lo slogan politico dell'attuale Presidente della Repubblica Popolare Cinese è Xi Jinping, il suo slogan è il sogno cinese, il sogno cinese che a noi chiaramente rimanda subito al sogno americano, ma sono opposti, perché il sogno americano è un sogno individuale di io singolo che in qualche modo mi realizzo e faccio fortuna. Il sogno cinese invece è io singolo che mi realizzo, faccio fortuna, ma soprattutto faccio fortuna per il mio paese, porto ricchezza al mio paese, quindi è un sogno collettivo in qualche modo contrapposto a un sogno individuale e questa è una differenza fondamentale, cioè la base appunto, quello che ci differenza forse di più dalla Cina, ma che ci dice molto di noi e che secondo me è molto interessante anche per noi per capire poi la nostra identità vera qual è.